Siamo arrivati alla costellazione dell'orsa maggiore. Occhio a non confondersi con l'asterismo del grande carro. La maggior parte delle persone conosce il grande carro, che sono queste sette stelle, e non è una costellazione, è un asterismo, è un disegnino facile da vedere in cielo. La costellazione di per sé, quella di tolomio, continua, ma adesso la costellazione è tutto il cielo intorno, ricordo. Ok, è una delle costellazioni circumpolari, dato che è molto a nord. Cosa significa circumpolare? Dato che la Terra ruota sull'asse e le stelle ruote circa intorno alla stella polare, che si chiama Polaris, ovviamente più sei vicino all'asse, più sei fermo, più invece sei sull'equatore, più ruoti, ruoti, ruoti. Quindi se tu sei sull'equatore, io che sono fermo, ti vedo sorgere, andare al massimo allo zenith, poi tramontare, andare sotto la Terra e risorge di nuovo. Alcune stelle molto più a nord invece rimangono sempre su. Queste sono le stelle circumpolari. La mitologia legata all'orso maggiore è molto collegata anche al mito di Bote, di Zeus e Gallisto. Quindi quando provo la costellazione del Bote ripeterò le cose. Allora, tutto nasce con Zeus che vuole fare sesso. Zeus va a fare sesso con Gallisto. Ha un figlio che si chiama Arcas, che è un semidio. E di solito Zeus poi non è che ritorni molto, non è un grande padre amorevole. Però un giorno, secondo il mito che so io, decido di tornare. Va a pranzo da Gallisto. A pranzo c'è Gallisto, Zeus, Arcas, che è un figlio di pochi mesi, e il padre, Licaone. E fa piacere, piacere, come si chiama? Zeus. Ah, come Dio? No, no, sono Zeus, padre dell'universo, creatore di Saete. E Licaone fa... Sì, davvero, sì, ma no. Allora, come fai a capire se ti trovi davanti a Zeus? Lui ha un piano geniale. Prende sua nipote, Arcas, lo uccide, lo taglia a pezzi, lo cucina e lo servì a Zeus. Dicendo, se se ne accorge, se se ne accorge, sarà veramente Zeus. Ovviamente, Zeus se ne accorge, uccide Licaone, ricompone Arcas, e... Lui fa vivere. Però, nel frattempo, ricordiamoci che c'è Hera. Pittoricamente, era moglie di Zeus, anche se era cornificata più di un cervo. E Hera, super gelosa, quando scopre di Gallisto, la trasforma in un'orsa. E un giorno, durante una battuta di caccia di Arcas, vede un'orsa. Sta per ammazzarla, ma Zeus blocca il tempo per evitare che cacciasse sua madre. Li mise in cielo entrambi. Quindi abbiamo la costanzia del cacciatore e la costanzia dell'orsa maggiore. Va bene. Un po' di nomini. Abbiamo. Ecco, i nomi delle stelle sono invece legati agli studiosi arabi. Quindi sono molti nomi derivanti da parole arabe. Per esempio, nella costanzia del cigno, c'è Deneb, che proprio significa la coda del cigno. Adesso abbiamo un po' di nomi incasinati. Abbiamo Alkaid, Mizar, Arioth. La prima del pentolino d'arte del carro è Megrez. Poi abbiamo Bekda. E, sempre per completare l'asterismo, abbiamo Merak e Dube. Adesso, per orientarsi nel cielo, dobbiamo sfruttare le stelle molto visibili. E questa è abbastanza visibile. Adesso abbiamo Alkaid, che è la 35esima stella più brillante. E, Aliot, che è la più brillante della costellazione, è la 32esima. Magrez, che è la meno luminosa, ma comunque si trova a soli 81 anni luce da noi, quindi ci sta. Per orientarsi, quindi, usiamo queste stelle qua, che sono molto luminose, mentre le altre praticamente non si vedono. In particolare, un trucchetto è prendere questa linea retta, che parte da Merak e Dube, e prolungarla nello spazio. Quindi, quasi, su questa linea retta qua, si troverà la stella polare, ossia Polaris. È circa 4-5 volte questa distanza qua, e la dovete vedere un pochettino più a destra. Che, per evitare, non lo so, io, quando guardo il cielo, un sacco di persone dicono quella stella più brillante è la stella polare, e me la indica sul mare. No, quello è un aereo. Oppure, no, quello è una stella normale. Ma perché pensate che la stella polare sia la più luminosa? È una stella abbastanza, è un sistema abbastanza sfigato. Va bene, iniziamo con due cose interessanti. Alkaid si trova a 104 anni luce da noi, è 700 volte più grande del Sole. Ecco, preparatevi a vedere ordini di grandezza che sballano tantissimo. Alkaid significa il capo delle fanciulle in lutto. Ecco, in particolare, ci sono diverse mitologie. Una è legata a, adesso pensiamo un attimo soltanto all'asterismo nel grande carro, potrebbe essere legata a sette figlie che hanno perso un caro, e questo qua è il caro da morto, e lo stanno in lutto e trasportano il caro da morto. Oppure, per esempio, i lattini, invece, dato che questa qua ruota intorno alla polare, no? Ruota intorno, tutte le stelle intorno a Polaris, e quando questo qua smette di vedersi, perché il Sole sorge, mentre invece, quando lo Sole tramonta, dato che sono abbastanza luminose, si vedono molto subito, quindi sembra che spingono via il Sole. Eccola, questo qua è come se fosse un carro che trasporta il Sole, no? E le sette stelle erano sette buoi. In particolare, qui dicevo, queste sette buoi, in latino septem triones, che trainavano la volta celeste. E vi faccio notare che il termine per indicare il nord, settentrionale, l'emisfero settentrionale, deriva dal fatto che nell'emisfero settentrionale si vedono queste sette entriones. Sette buoi. Ok. Poi, partiamo alla seconda. Miser. Miser non è una stella. È, come Castor, nella Costazione dei Gemelli, è un sistema di sei stelle. E questa fu scoperta, scoperto che era un sistema più che binario nel 1617, e a una distanza di 85 anni luce. Poi, a Heliot, che è la più brillante della Costellazione, e si trova, sembra, 81 anni luce da noi, è quasi 110 volte più luminosa del Sole. Abbiamo visto che sta finendo l'idrogeno nel suo nucleo, e quindi farà quello che farà il Sole, si espanderà e diventerà una gigante, probabilmente. Lo vediamo perché contiene già elementi pesanti, anche se non sappiamo bene perché. Pesanti significa oltre il ferro. probabilmente avrà assorbito qualche stella, e ha una nanna bruna che le orbita intorno. Poi, passiamo alla prima del carro, Magrez, che è la meno luminosa, stessa distanza, 81 anni luce da noi, e letteralmente significa inizio della coda, perché nel disegnino, se qua è un orso, allora questo qua è il punto in cui stacca la coda. Ma la cosa bella è che gli orsi non hanno coda. Cioè, come tutti i mammiferi avevano la coda, ma l'hanno persa, come noi esseri umani. E, vabbè. Cosa interessante è che Magrez ha un disco circostellare di 16 anni luce. Pazzesco. Poi, in basso, abbiamo Pecta, che appunto significa la coscia dell'orsa, è 75 volte più brillante del sole, su tutte le frequenze, ovviamente come dico, è su tutte le frequenze, praticamente 6 stanza, 84 anni luce da noi, e il suo raggio è 3 volte quello del sole. Poi, andiamo su Dube, che non è una stella, ma è un sistema stellare quadruplo, distante 124 anni luce da noi. Ci sono, in particolare, due stelle binarie distanti 8000 unità astronomiche, che sembrano tanto e sembrano interferire, ma sono stelle molto grosse. Questa, che è la schiena dell'orsa, infatti Dube significa la schiena dell'orsa. E delle stelle binarie sono una gigante arancione, con una stella bianca che è da lì intorno, e una nana gialla, con un'altra stella che forma un altro sistema. Poi, Merak, circa alla 6 stanza, ho 79 anni luce da noi, ha un raggio, che è 3 volte quello del sole, e una massa che è 3 volte quello del sole, ma è 73 volte più luminosa. E anche lei ha un disco circostellare di 45 unità astronomiche, e il nome significa i lombi della lorosa maggiore. Cosa interessante, sulla lorosa maggiore, l'Alaska, lo stato americano, ha come costellazione il grande carro e la stella polare, come va a dire. Poi, direi che ci siamo. Ok.